non fare il magazzino muffito, da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR, clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XUDERONE, DAIE! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video, io sono XUDER e ragazzi devo ringraziare proprio voi che durante lo streaming di questa mattina mi avete fatto notare una cosa incredibile che potrebbe essere, anzi che sarà sicuramente collegata alla collaborazione di Fortnite con IT vi ricordate che qua ragazzi a parco pacifico vicino alla casa moderna c'è il palloncino che usciva dalla grata beh ragazzi da poche ore, da poche ore ragazzi guardate cos'è successo la mattonella più in fondo del pavimento si è spostata ragazzi e sono convinto che non sia assolutamente un caso voluto da Epic Games probabilmente continua ragazzi l'aggiornamento con la collaborazione sotto abbiamo visto che c'è una stanza, c'è un qualcosa, probabilmente potrebbe proprio essere il Carnival quindi la location che vi ho detto qualche ora fa nel video delle news non sappiamo cosa sta per succedere ma siamo molto, molto, molto fiduciosi che possa veramente arrivare in game la skin di IT e quindi la collaborazione ufficiale io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando andate a dare un'occhiata alla mattonella noi siamo in live ciao 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 ciao